Questo video di pesca subacquea vi porterà in alcuni posti molto particolari della Sardegna tra rocce millenarie, praterie di Posidonia e fondali che scendono a picco. Siamo ad ottobre e l'acqua è ancora troppo calda, non ci sono state amareggiate importanti e il pesce non si è ancora avvicinato sotto costa così come avrebbe dovuto fare in questo periodo. Il viaggio parte dalla costa est della Sardegna in un posto magico fatto di grossi massi che si posano sul fondo, fondali che scendono repentinamente e piccole baie nascoste. Mi sposto facendo dei lunghi agguati, strategia che in questi ambienti funziona sempre molto bene ed è facile sorprendere così qualche bel pesce che mangia, come avviene con queste salpe intenta brucare le alghe sulla parete di roccia. Il pesce qui solitamente mangia sulle pareti di roccia oppure sulle rocce affioranti e quando ci percepisce si stacca dalla parete e scappa velocemente verso il fondale. Succede così con questo sarago che potrebbe essere una facile preda ma sono costretto ad aspettare per evitare di rovinare la punta dell'asta. Con un pesce importante non avrei esitato a sparare prima e questo sarebbe stato il momento giusto. Il sarago è stato appena colpito nella parte superiore ma sopravviverà senza problemi. Oggi ho l'impressione che i pesci possano esserci ma sono estremamente spaventati. Solo alcuni saraghi si avvicinano senza troppa paura ma sono troppo piccoli per essere catturati. Capisco che nel basso fondale non c'è nulla e provo a spostarmi più sul fondo facendo qualche aspetto ma anche qui la situazione non migliora affatto. Più avanti vedo una piccola cernia che mi osserva curiosa. Ne approfitto per sbirciare dentro la tana e vedere se riesco a ritrovarla. Non la trovo subito ma una ricerca nei dintorni mi conferma la presenza di queste simpatiche cerniotte che scappano velocemente nel labirinto delle loro tane. In questa piccola pausa ho la fortuna di osservare un'enorme stella marina di un colore molto acceso. Non la tocco perché anche un piccolo spostamento potrebbe esserle fatale. Più avanti trovo invece i simpaticissimi re di triglie, dei pesci che sembrano tropicali ma che vivono nel Mediterraneo in ambienti bui anche a pochi metri di profondità. Nella mia piccola esplorazione incontrò anche il pesce scaro o pesce pappagallo del Mediterraneo, un pesce non facile da incontrare in tutti gli ambienti marini ma che qui si trova facilmente. A parte qualche piccolo pesce non si vede molto e continuo con il mio percorso per centinaia di metri senza vedere nulla. Arrivo in prossimità di una baia, la mattina presto di solito le orate e i saraghi mangiano in acqua molto bassa e bisogna intercettarli prima che fuggano alla velocità della luce. È proprio qui che vedo una grossa orata di circa un paio di chili che mangia tranquilla. Non ho più fiato e esco a respirare dietro una roccia dove il pesce non può sentirmi. Prendo fiato di nuovo e mi immergo ma in trevei dolorata che si allontana tranquilla a più di 20 metri di distanza. Provo con un piccolo richiamo ma nulla, sarebbe inutile provare a seguirmi. A questo punto sono passate già tre ore e non ho visto grandi cose. decido di tornare a casa ripercorrendo tutto il percorso e pinneggiando con forza. In Sardegna purtroppo non c'è tutto il pesce che si crede e trovare un deserto del genere in un paradiso significa che la pesca di frodo e quella professionale hanno distrutto alcuni posti prima ricchi di pesce. Nella via del ritorno trovo una mormona ferita che si muove a malapena. Cerco di farla muovere e si allontana lentamente. Chissà cosa le è successo. Vista la preoccupante assenza di pesce, con mare calmo, prova a immergermi con mare più mosso verso capoferrato. I risuidi della Posidonia sono a migliaia e rendono difficoltoso individuare il pesce. Ma queste sono le condizioni giuste per provare a intercettare qualche grossa spigola o qualche sarago. L'acqua infalti molto ossigenata e i predatori amano spostarsi nell'acqua bassa per cercare le loro prede. Inoltre i rumori prodotti dalle onde che si infrangono sulle rocce mi nascondono al pesce ed è più facile avvicinarsi di nascosto. In questo mare turbolento e sporco la strategia migliore è quella più semplice, evitare lunghissimi spostamenti e attendere il pesce sul fondo nel posto giusto. Però è davvero strano che non si vedano spigole in questo periodo e in queste condizioni. Tuttavia qualche sarago si fa vedere. Riesco a centrare questo bel sarago fasciato. Ma purtroppo sarà l'unico pesce sparabile di tutta la giornata. Qualche giorno più tardi prova ad immergermi vicino Cagliari in una caletta ricca di posidonia. Qui succede una cosa stranissima. Mentre mi riparo sulla costa non riesco quasi a muovere il piede. Ho calpestato una torpedine che mi sta dando la scossa. Incredibile non mi era mai successo. Non è raro incontrare questo pesce ma non mi era mai capitato di calpestarlo in pochi centimetri d'acqua. Cioè non mi è mai successo con una torpedine mi desse la scossa subito. Cominciò bene. Oggi l'acqua è particolarmente torbida e l'unica strategia che posso tentare è quella di fare dei lunghi aspetti nella posidonia sperando che i pesci soprattutto le orate si avvicinino. Questa è una condizione non ideale. L'assenza di pesce, il mare sporco e leggermente mosso rendono molto difficile mantenere la concentrazione e il tempo di immersione si riduce drasticamente. Dopo un'ora di nulla assoluto capisco che è inutile continuare e mentalmente stremato esco dall'acqua non prima di aver ripreso questo polpo perfettamente mimetizzato sulla roccia e quasi invisibile. Talmente convinto del suo nascondiglio che si fa accarezzare senza muoversi per poi finalmente cambiare colore e tornare nella tana. In tre immersioni ho visto pochissimi pesci e sparato solamente due volte. Non mi resta che proseguire verso ovest ed esplorare posti differenti. Arrivo in questa spiaggia quasi al tramonto ma decido comunque di immergermi anche solo per pochi minuti. Il sole sta tramontando e l'acqua è già scura. In questa condizione non ideale provo a fare dei lunghi aspetti sul fondo e vengo rapidamente circondato da un numero incredibile di piccole occhiate saraghi che mi permettono di mantenere alta la concentrazione. Dopo due aspetti senza vedere nulla mi sposto nuovamente verso il fondale più basso dove inizia un lunghissimo agguato di oltre due minuti durante il quale comincia anche a piovere forte. Con il pensiero di Eva sulla riva completamente in balia della pioggia termino lagguato con un aspetto e dalle tenebre si materializza lentamente un grosso cefalo. Non lo sbaglio, rientro velocemente col pesce perché continua a piovere ma prima di uscire lo uccido e lo pulisco direttamente in mare. Così facendo non si butta nulla ma gli altri pesci e crostacei potranno alimentarsi e la catena alimentare sarà completa. Ottobre è stato un mese anomalo e non essere riuscito a vedere alcuna preda dimostra che anche in un mare ricco come può essere quello della Sardegna nelle condizioni sbagliate ci sia in realtà un deserto. Speriamo in mesi migliori ma soprattutto in temperature più normali. Grazie a tutti.